Parliamo di grandi sprechi di soldi pubblici che ammontano a diversi diversi milioni di euro che potrebbero essere risparmiati, recuperati per metterli sull'offerta sanitaria e magari riaprire qualche ospedale e qualche reparto. E nello specifico parlo dell'RX polifunzionale, un apparecchio per fare i raggi, che è stato acquistato e parcheggiato presso il distretto sanitario di base di Pescara Nord, lasciato in abbandono, non è stato mai utilizzato da lontano 2013. Questo provoca naturalmente la lungaggine delle liste d'attesa, persone che vanno nel distretto e non possono sottoporsi a questa diagnostica radiologica. Mi rivolgo anche allo scandalo della PET-TAC, un'apparecchiatura per la diagnostica oncologica che ci costa, costa l'AS, 5 mila euro al giorno di affitto. Da dieci anni si è pagato 10 milioni di euro di affitto per un'apparecchiatura che costa un milione e mezzo di euro e alla Palazzina Asda, acquistata per 3 milioni di euro e lasciata in abbandono per anni. Quindi recuperando queste cose, recuperando soldi pubblici, ma non solo attivando queste cose, potremmo erogare servizi sanitari secondo standard di qualità e di efficienza. Io adesso sono in dovere di chiedere al Presidente di Regione Marsiglio, all'Assessore regionale della Sanità, risposte immediate. Cosa intendono fare nei confronti di queste cose? E io do la soluzione. Dovrebbero immediatamente obbligare la Direzione Generale, i vertici dell'azienda, a risolvere questi problemi, ad acquistare subito una PET-TAC e risparmiare quindi 5 mila euro al giorno di affitto, a riattivare immediatamente l'RX polifunzionale nel distretto sanitario di base di Pescara Nord, a utilizzare quella palazzina che è stata pagata 3 milioni di euro e che sta lì in abbandono. Questi scandali devono finire. Io lo pretendo e mi auguro che ci sia una risposta anche pubblica e immediata da parte di chi comanda adesso in Regione Abruzzo. Per quanto riguarda invece l'indagine della Guardia di Finanza sul trasporto dei dializzati, c'è stata la risposta della ASL che ha detto attendiamo il lavoro della magistratura. Non avrei mai voluto ascoltare questa diciamo leggere questa risposta perché lì si è detto aspetteremo l'esito della conclusione delle intagini penali per attivare un'indagine interna. No, non dobbiamo e non si deve la politica delegare esclusivamente alla magistratura la ricerca della verità. È dovere della politica e quindi della direzione della ASL attivare un'indagine interna parallela, indagine amministrativa. Quindi se poi vengono fuori delle anomalie si proceda anche a livello amministrativo. Non bisogna aspettare. Perché bisogna sempre aspettare la magistratura? Gli anticorpi della politica e della direzione sanitaria devono entrare in in attivazione immediatamente.